Lanciata 11 anni fa dal WWF a Sydney, l'Ora della Terra ha avuto nell'edizione del 2017 l'adesione di oltre 7.000 città in quasi 190 paesi del mondo. Una immensa energia positiva, quest'anno sintetizzata dall'hashtag Connect2Earth per sottolineare il legame tra la biodiversità e il nostro benessere. Domani, sabato 24 marzo, dalle 20.30 alle 21.30, si spegneranno le luci di tanti luoghi simbolo del pianeta. Tra questi anche quelle di tanti monumenti e città abruzzesi, da Palazzo d'Avalos a Vasto al Castello Aragonese di Ortona, dal Palazzo di Città di Pescara al Borco Antico di Oricola, dal Monumento all'Alpino di Ovindoli a Piazza della Libertà di Giulianova, dalla Fontana Luminosa di Avezzano alla Torre del Cerrano. In tutto sono circa 50 i comuni abruzzesi che hanno aderito all'appello del WWF a cui si aggiungono i parchi nazionali, regionali e le riserve, le scuole e le università oltre a molti enti e istituzioni. Tra le iniziative collaterali promosse nella nostra regione ci sono le biciclettate di Chieti, Teramo e Lanciano. A Pescara invece, dalle ore 9.30, i volontari puliranno l'area del Fratino nella zona della Madonnina. È un gesto simbolico perché spegnere le luci per un'ora dalle 20.30 alle 21.30 non risolve i problemi del pianeta, sicuramente. Però si fa in tutto il mondo ed è la dimostrazione che tantissime persone nel mondo, in Abruzzo ormai la maggioranza dei cittadini, quasi circa un sesto dei comuni delle città con tutte le più grandi città, è una dimostrazione che tanta gente crede nella possibilità di uscire fuori dai problemi del cambiamento climatico, di superarli e di lottare tutti insieme per avere un futuro migliore. Grazie.